La colorazione che abbiamo scelto è la Mon Amour, che ci è piaciuta tantissimo, adesso vi mostro anche l'interno, mentre la struttura è quella vivace perché l'abbiamo ritenuta più adatta alle nostre esigenze. L'interno della culla è un materiale traspirante e igienico e la cosa che mi ha colpito è che si può regolare sia lo schienale che il poggio e gambe, lo trovo davvero molto utile, attraverso questo sistema che ci permette di regolarli. Altro dettaglio che mi ha colpito molto è questa vista a bel vedere che migliora la circolazione dell'aria all'interno della culla. E un'altra apertura è questa qui, la finestra panorama, che ci permette di vedere la nostra bambina dall'esterno direttamente all'interno. Noi siamo felicissimi della scelta che abbiamo fatto, adesso non vediamo l'ora di vedere la nostra bimba all'interno. La facciamo rivedere un attimo nel dettaglio questa carrozzina insieme ad Andrea Zenga, guardate lui che proud dad, ciao!